L'Interlochine 1 è un target terapeutico molto studiato in passato che poi nel corso del tempo è stato diciamo così un po' tra virgolette abbandonato verso il quale però ultimamente diciamo così c'è un rinnovato interesse e su questi temi il professor Giacomelli ordinario di reumatologia all'università dell'Aquila ha tenuto un'interessante relazione qui a Mantova al sesto congresso sull'approccio clinico e riabilitativo in reumatologia. Allora professor Giacomelli come mai questo rinnovato interesse per l'Interlochine 1 cosa c'è di nuovo? Beh possiamo dire che l'Interlochine 1 è da sempre un target importante in tutte le patologie infiammatorie e quindi anche nelle patologie articolari infiammatorie. La sua azione è pleiotropica si realizza a livello delle articolazioni ma anche a livello di molti altri organi apparati e quindi giustifica la sistematicità di molte malattie. In passato avevamo un farmaco che era l'Anakinra che era un recettore antagonista dell'Interlochine 1 e quindi ne inibiva l'effetto con una specifica modalità d'azione. Adesso abbiamo un nuovo anticorpo monoclonale diretto sempre contro l'Interlochine 1 e il Canakinumab che ha recentemente ottenuto l'autorizzazione a livello europeo per il trattamento della gotta e che sta indicando in vari studi scientifici dei buoni risultati anche nell'artrite idiopatica giovanile e in altre forme di artrite infiammatorie e quindi questo giustifica un rinnovato interesse nei confronti di questa molecola come target terapeutico. Quali sono i risultati clinici che si riescono a tenere con questi due farmaci o con ciascuno di esec analizzando un attimino separatamente? Beh bisogna dire che sono farmaci molto efficaci nel trattamento delle artrite infiammatorie anche se in alcune metianalisi condotte da studi internazionali sembrano essere leggermente meno efficaci degli anticorpi antitnf ma naturalmente sono un'ottima e una valida alternativa in quei pazienti che non possono essere trattati con altri biologici per il trattamento dell'artrite reumatoide e di altre forme. Ecco poi c'è questo appunto utilizzo nelle CAPS in queste forme giovanili molto rare per fortuna ma anche molto debilitanti. Certo direi che sono il farmaco elettivo nel trattamento delle CAPS che sono malattie rare su base genetica legate proprio a una deficienza dell'interlochina 1 dell'antagonista dell'interlochina 1 e in cui quindi l'interlochina 1 provoca effetti devastanti in questi piccoli bambini e l'uso di questi farmaci bloccanti dell'interlochina 1 ha modificato la storia naturale di questa di queste malattie. Ecco veniamo invece a uno studio che appunto sta per partire di cui il suo centro è il coordinatore nazionale forse diventerà il coordinatore internazionale se verrà esteso che prevede proprio l'utilizzo di uno di questi due anti-interlochina 1 ma con un doppio bersaglio terapeutico. Ce lo può raccontare? Sì perché come ho detto prima l'interlochina 1 ha un effetto pleiotropico e numerosi studi hanno dimostrato come alcune malattie delle quali non sospettavamo assolutamente fino a qualche anno fa il coinvolgimento di questa citochina hanno invece, sono fortemente condizionati da questa citochina stessa ad esempio il diabete di tipo 2, il diabete classico dell'adulto e anche la terosclerosi. Noi sappiamo che almeno il 10% dei pazienti con artrite reumatoide hanno un diabete di tipo 2, sappiamo che la principale causa di immortalità nei pazienti con artrite reumatoide sono le complicanze cardiovascolari e aterosclerotiche mediate dall'interlochina 1 e quindi abbiamo programmato uno studio, il track study, che seleziona pazienti con artrite reumatoide affetti da diabete mellito di tipo 2 con l'intenzione di dimostrare che utilizzando l'anticorpo, il recettore antagonista dell'interlochina 1 si possa curare contemporaneamente entrambe le forme e quindi con un significativo vantaggio nei termini della compliance del paziente. Quanti pazienti studierete e quando saranno disponibili i primi dati? In questo momento sono stati già ruolati 11 centri che hanno ricevuto l'autorizzazione dal comitato etico locale, sono previsti 25 centri in Italia, il campionamento comprenderà 400 pazienti divisi in due bracci, 200 pazienti trattati con anachinra, 200 pazienti trattati con altri biologici e si valuterà l'effetto sull'emoglobina glicata che è il principale marcatore di diabete e anche il principale marcatore di severità e mortalità correlata al diabete. Quindi il nostro obiettivo è con un solo farmaco cercare di curare due patologie contemporaneamente. Quando avremo i primi dati, prof? Penso non prima di un anno, un anno e mezzo, lo studio richiede una serietà e una severità nei criteri del ruolamento e quindi non sarà facilissimo ottenere il campionamento necessario in tempi brevi.